Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, un po' al buio ma in Italia in questo momento è mattina, ci sono 12 ore di differenza rispetto a dove sono io ma questo mi permette di leggere i giornali con maggiore attenzione anche se sui giornali non è che proprio sia successo l'impossibile. Quello che succede è in questo momento al Senato perché come tutti quanti i giornali dicono crisi o non crisi di governo, il tema fondamentale è vai a pescarne una delle solite la TAV, dopo il decreto sicurezza e tutti quanti i mal di pancia come era previsto nei giorni scorsi, il problema saranno le emozioni che peraltro non contano assolutamente nulla e questo nessuno ve lo spiega perché le emozioni, ce ne saranno 6 oggi al Senato, ci sarà quella del Movimento 5 Stelle, quella della Sinistra, poi ci saranno degli altri partiti tra cui il PD che sono emozioni sulla TAV, allora la TAV è oggetto di accordi internazionali come spiegano bene i giornali oggi, quindi tutte queste emozioni dovrebbero impegnare il governo a revocare questi accordi internazionali, cioè a fare una legge che peraltro nessuno in Parlamento voterebbe perché non c'è nessuna maggioranza parlamentare che potrebbe votare la revoca delle emozioni, insomma stiamo giocando su investimenti, su sviluppo, su cantieri che dovrebbero partire oppure insomma potremmo deciderlo 15 anni fa di non farli, insomma non si può decidere in questo paese ogni 15 anni che cosa fare perché se no si muore, detto questo le emozioni hanno un peso politico, perché come ormai sapete tutti quanti Salvini è contraddissimo alla emozione contro la TAV che presenta oggi il Movimento 5 Stelle e secondo i giornali ci sono tensioni sul governo, questo è il titolo del Corriere della Sera, non solo sulla TAV ma anche sui conti, tra poco lo vedremo. Salvini dice che ovviamente bisogna andare avanti sulla TAV e che si deve votare a favore della TAV, quindi probabilmente come sintetizza il fatto in maniera un po' diciamo approssimativa, oggi la Lega sta con il PD o come dicono loro con il Partito degli Affari e per il quotidiano nazionale, quindi tre giornali, Nazione, il resto del Carlino e Giorno, la crisi sarebbe vicina, il voto oggi del Senato potrebbe far saltare gli equilibri all'interno del governo giallo-verde, insomma sono saltati da un po' di tempo, pensate che un po' che ci sono due cose ieri che sono avvenute, una l'ha fatta stamattina ma era ampiamente anticipata dai siti ieri, cioè Toninelli, il ministro con cui Salvini litiga un giorno sì, un giorno no, dice che Salvini sarebbe un nano sulle spalle di chi lavora, nel frattempo un altro ministro, suo di sonde del Movimento 5 Stelle, ex forestale, diventato carabiniere, quello che si è inventato lo scandalo mediatico perché tale si tratta, l'ho spiegato bene il foglio, della terra dei fuochi, l'attuale ministro dell'ambiente non pensa, non fa niente di meglio che dire che sulla questione della moto d'acqua di Salvini, Salvini ha commesso un reato, un reato, un ministro che dice che un altro suo collega di governo avrebbe commesso un reato, ma ritorniamo alla TAV e al voto che ci sarà sulla TAV, quali saranno le ripercussioni sono tutte da vedere, ma oggi c'è un trafiletto straordinario come spesso avviene di Italia oggi, di Magnaschi che è molto abile, dice ragazzi in pochi si sono resi conto di una cosa banalissima e sapete di che cos'è che non si sono resi conto? Non si sono resi conto del fatto che la maggioranza in questo Parlamento non viene fatta soprattutto al Senato dalla maggioranza degli aventi diritto, quindi di 161 voti, perché già due o tre volte sono stati votati i decreti a 158 voti o l'ultimo decreto sicurezza a 160, la maggioranza si fa con un voto in più di quelli che si presentano nel Senato quel giorno, quindi se al Senato si presentano 100 persone e la maggioranza è fatta da 51 o come l'altro giorno con 160 persone a favore sul decreto sicurezza e 57 contro, è evidente che ci sono 100 voti addirittura in più per la maggioranza, la maggioranza si fa non sul numero assoluto ma sui presenti, quindi siccome tutti se la fanno sotto, questa è la sintesi di far cadere questa legislatura in tempi utili, ogni volta che i grillini perdono un voto o una persona al Senato, ci sarà qualcuno del centrodestra che farà finta di essere contro questo governo ma che non si presenterà in Senato perché non vuole che si creino le condizioni perché cada il governo e quindi cada il suo stipendio, questa è la sintesi buona di quello che dice, anzi cattiva di quello che dice oggi Italia oggi, dice smettete di drammatizzare su questa crisi questa tesi di Magnaschi, questi non ci pensano per niente di andare a votare perché non gli conviene, tra l'altro sarebbe la legislazione ancora più corta della storia repubblicana italiana. Seconda questione di crisi di governo, lo cita il giornale e cioè questo governo secondo Salvini dovrebbe abolire il decreto Renzi sugli 80 euro, anche quello è un decreto elettorale, fu fatto prima dell'Europa, ma quando le cose le fa la sinistra non sono mai elettorali, quando lo fa la destra, qualsiasi essi sia, Berlusconi erano tutte elettorali e Salvini sono sempre elettorali, sono sempre elettorali tutti quanti, tutti quanti i politici fanno qualche cosa per compiacere il suo elettorato, ma la cosa straordinaria è che anche qui è una presa per i fondelli, cioè in economia deve stare un po' attento Salvini non prenderci troppo per il culo, perché se dice che toglie gli 80 euro, che sono 9 miliardi di euro e fa una riduzione fiscale da 10 e 15 miliardi e poi ieri ha detto ma non so, flat tax o non flat tax, può essere anche la riduzione del culo fiscale, ma gli 80 euro cos'erano se non, scusatemi, una riduzione del cuneo fiscale può essere fatta meglio, può essere evitato che ci sia quello scalone che alla fine dell'anno nei conguagli devi dare indietro i soldi, potete inventarvi quello che volete, ma parliamoci chiaro, gli 80 euro erano riduzione fiscale che costata allo Stato 9 miliardi di euro, quindi se tu toglie gli 80 euro e fai una riduzione fiscale da 10 miliardi di euro, sostanzialmente sei pari a patto, hai tolto una cosa e ne hai messa un'altra, quindi è una presa per il culo, di shock c'è niente se questa fosse la soluzione, in realtà poi si batte anche contro questa tremenda Tasi, è una tassa assurda sui servizi indivisibili, faceva bene la confedilizia a dire che era una cagata partorita soltanto da un genio, per cui devi pagare l'Imu, poi devi pagare la Tasi, che in realtà in genere è 30 euro, 35 euro, poi pagano anche gli inquilini, è una tassa della minchia soprattutto perché è difficile da pagare, ma il punto è un altro, sapete quanto vale la tassa in Italia? Un miliardo, stiamo parlando di una tassa assurda ma che non ha nulla a che vedere con le grandi tasse immobiliari che di questi tempi si vogliono reintrodurre. Altra cosa straordinaria, ma statemi attenti, tra poco ne riparlerò perché voglio fare un video ad hoc su questo perché i giornali italiani non ne hanno parlato, il New York Times decide di cambiare il titolo in prima pagina, ma non il giorno dopo, dopo un paio di ore tra una prima e una seconda battuta su Trump per la strage di El Paso e sapete perché? Perché un 3-4 parlamentari dei Democratici e qualcuno su Twitter aveva detto che quel titolo era scorretto, ma vi rendete conto? Questi cambiano il New York Times, il giornale, ve ne voglio parlare più tardi, quindi tra poco farò un video anche su questo. Gli 80 euro vi ho detto, Sallusti da segnalare contro Toti, perché ieri c'era un'intervista di Moulet, insomma di quelle che non valeva neanche la pena, non per altro, ma perché io sono talmente affezionato all'idea che ci sia un centrodestra serio come era quello del 94 che pensare che oggi ci sia questa battaglia tra Comari mi viene molto da ridere, non che sia Comara l'uno o l'altro, ma che il partito è diventato ridicolo purtroppo rispetto a quello che era nel passato. Ma che cosa succede? L'intervista di Moulet risponde Toti dicendo che il giornale è il giornale del signor Si e Sallusti non ci sta a farsi dire che lui e il signor Si, avendo visto, scrive nel suo fondo oggi sul giornale, Toti dire tanti sì, soprattutto quando Alfano se ne andò dal partito da Forza Italia, esattamente come se ne va Toti, e soprattutto tanti sì alle scene di Arcole dette da Toti a Berlusconi. Quindi proprio a me mi devi dire, are you talking to me? Are you talking to me? Non so fare taxi driver, ma avete capito il concetto? È furibondo per questa... Are you talking to me? Vabbè, ritorniamo sulle altre cose che ci interessano. Trinità dei Monti, la scadinata famosa di Trinità dei Monti è stata deciso da un regolamento comunale che non ci si può sedere sopra la scadinata. 400 euro di multa, tutti i giornali ne parlano, Mario Aiello dice non si ferma così il degrato a Roma, il Tempo dice che sono tutti contrari. Io per una volta sono d'accordo invece con un regolamento comunale fatto dalla Raggi, e cioè l'idea che non si possa bivaccare sulla Fontana di Trevi, che non si possa bivaccare sulla Piazza di Spagna, che non si possa mangiare come nel regolamento comunale dietro ai monumenti. Se non ha girato un po' il mondo, non c'è bisogno di stare in questo buio qua dietro, orribile delle Hawaii dal punto di vista della storia e della tradizione, ma dell'America in cui non ti fanno fare nulla per insultare magari l'ultima pietra che loro hanno costruito nel 1700. Ma insomma, quando tu hai dei monumenti, hai delle tradizioni, hai una forza come quella che è a Roma, è evidente che le devi rispettare. A me vedere il ragazzino che sta con la birretta lì seduto a Piazza di Spagna, trovo giusto che non si faccia. Quindi io sono contrario a questa serie di... Si inizia da là, è il vetro rotto di Rudolf Giuliani. Serve questo a limitare il degrato di Roma? Ovviamente no, servirebbe ben altro. La Raggi con questo emenda le minchiate che ha fatto fino ad ora? Ovviamente no, ma non si può dire che su questo ha sbagliato. Ne fa una giusta, gli diciamo che è sbagliato. Potete dire, se non vi piace la Raggi, che come un orologio rotto ogni tanto segna l'ora giusta, ma questa volta secondo me l'ha fatta bene. Spadaro, ex magistrato sulla Repubblica, ci spiega come si devono comportare i magistrati sul decreto sicurezza. Cioè dice, loro non sono obiettori civili, non possono fare come i medici che non fanno l'aborto, devono applicare le leggi, però sul decreto sicurezza possono ricorrere alla Corte Costituzionale. E poi 40 righe per spiegare come il ministro, com'è che lo chiamano? Il ministro di tutto. Cioè Salvini ha fatto una legge orrenda, schifosa, e consiglia il magistrato, si devono mettere insieme tutti quanti i paesi per decidere qual è la norma migliore. Allora io mi chiedo e vi chiedo, ma un magistrato che non si rende conto come in realtà il filo è molto sottile tra l'applicazione di una norma e la non applicazione di una norma, e come in realtà c'è una parte della magistratura che sta facendo una battaglia ad personam contro le norme di Salvini che sono considerate a priori razziste. Ecco, questo è normale in un paese normale. Tra l'altro si lamenta di una cosa, secondo me invece Sacrosanta, che ha tolto spazio alla magistratura per fare sanzioni amministrative. Io vorrei un'Italia con meno reati, l'avete capito bene, anche perseguibili, e più botte. Botte non menate, la polizia non si deve permettere di toccare nessuno. Botte, sanzioni, possibilità appunto che ti diano una sanzione se ti siedi sopra la scalinata o che inizi a sporcare o imbrattare una città. Le sanzioni amministrative sono meglio che la penalizzazione, quindi i processi eterni che non finiscono mai, l'ingolfamento dei tribunali del nostro sistema politico. Tra poco vedrete, ve la metteremo in onda, la mia idea su questa assurda questione del New New York Times. Ciao!